I carabinieri di Pesaro hanno individuato ed arrestato due ladri che nella giornata di ieri avevano preso di mira le automobili ferme nel parcheggio dell'ospedale di Muraglia, sottraendo da una di esse il libretto di circolazione. Mentre uno dei due aspettava in auto, l'altro con uno strumento apposito apriva le portiere delle auto e una volta all'interno arraffava ciò che poteva e passava poi all'auto successiva. Grazie alla segnalazione di una cittadina che dall'interno della sua auto ha notato i movimenti sospetti dei due uomini ed ha avvisato il 112, i militari giunti sul posto hanno potuto bloccarli. Il capitano Giuseppe De Gori della compagnia di Pesaro ha sottolineato come la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine riesca a rappresentare un efficace strumento di contrasto alla criminalità. Infatti, grazie alla descrizione dei due individui e dalle foto della loro auto, i carabinieri li hanno intercettati e fermati poco distanti dal parcheggio, mentre si stavano dando alla fuga. Nella perquisizione del mezzo poi sono stati trovati diversi arnesi da scasso e il documento sottratto. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto all'allontanamento ed il rientro a Napoli, luogo di origine dei due arrestati, in attesa del processo che si terrà entro il mese di dicembre.